Siamo nella sala del Consiglio Nazionale che possiamo considerare il luogo di lavoro dei nostri politici. In questa sala hanno posto 200 deputati, ma sono più di 3.000 le persone che si candidano per un seggio al Consiglio Nazionale e siamo noi a decidere chi siederà dietro questi banchi. I 200 eletti prendono decisioni importanti per tutti noi. Il Consiglio Nazionale si occupa di temi quali l'ambiente, l'energia, le imposte oppure dei rapporti con i paesi vicini o l'Europa. È quindi importante che noi diamo un voto a quel candidato o a quei candidati che ci rappresentano al meglio. E ora, come possiamo votare? Al più tardi, dieci giorni prima della domenica delle elezioni, riceveremo una busta piuttosto voluminosa con il materiale di voto. Le schede per le elezioni del Consiglio Nazionale, la carta di legittimazione e l'opuscolo della Cancelleria Federale che ci spiega come votare. La prima cosa che non dobbiamo assolutamente dimenticare è di utilizzare le schede di voto che abbiamo ricevuto per posta, se no tutto il nostro voto non sarà valido. Una scheda di voto uguale per tutta la Svizzera non esiste. Le schede di voto variano da cantone a cantone, ma nel loro complesso sono molto simili tra di loro. Alle elezioni del Consiglio Nazionale possiamo scegliere tra liste e persone. Su ogni scheda troviamo il nome della lista e il numero. Ogni partito ha una sua lista. Ma cos'è un partito? Un partito è un gruppo di persone che hanno ideali e obiettivi comuni e che uniscono le loro forze per cercare di far diventare realtà i loro ideali. Se volete votare una lista senza portare nessuna modifica non dovete fare altro che prendere una scheda, infilarla nella busta più piccola, chiuderla, firmare la carta di legittimazione, prendere la carta di legittimazione di voto assieme alla busta più piccola e infilarla nella busta più grande. Fatto! Volete votare candidati di liste diverse? Non c'è nessun problema, è più semplice di quanto pensiate e avete più possibilità. Per il nostro primo esempio partiamo dal presupposto che vogliate votare una lista e un candidato da un'altra lista. Per prima cosa prendiamo la scheda che vi ho mostrato poco fa. Come vedete abbiamo un problema. Nella scheda non c'è lo spazio per inserire un altro candidato visto che ogni cantone ha diritto a un numero limitato di seggi in Consiglio nazionale. Il numero di seggi è proporzionale al numero di abitanti del cantone. Questa scheda, per esempio, conta otto candidati, dato che il cantone in questione ha diritto a otto seggi. Per prima cosa dobbiamo dunque fare spazio eliminando un candidato. Poi non ci resta che inserire il numero, nome e cognome del candidato dell'altra lista. Il numero del candidato lo trovate qui, nella lista dell'altro partito. Può darsi che qualcuno di voi voglia apportare ulteriore modifica ad una lista, ad esempio sostenendo un candidato in modo particolare. Cancellate allora il nome di un altro candidato. Eliminiamo, ad esempio, Pierre Patrice Personne di Partout e sopra di lui scriviamo violina votante, senza dimenticarne di indicarne il numero. Ora facciamo un rapido controllo per verificare che sulla nostra lista non ci siano più di otto candidati. Perfetto! La nostra candidata conta doppio perché figura due volte. Non ci resta che mettere la scheda nella busta più piccola e chiuderla, firmare la carta di legittimazione e mettere la carta di legittimazione assieme alla busta più piccola nella busta più grande. Fatto! Ora vi mostro un'altra possibilità. Tra le schede che avete ricevuto per posta viene una bianca. Su questa scheda potete inserire i candidati che volete, anche se appartengono a liste diverse. Possiamo creare la nostra lista personalizzata. Prendo per esempio questa candidata due volte. Da un'altra lista prendo questi tre. Poi c'è pure lui che mi ispira fiducia. È il mio preferito, James Mann. Lui lo scrivo due volte. Ora facciamo un ultimo controllo. Perfetto! Sulla scheda non ci sono più di otto candidati. Volendo potrei scrivere il nome di un solo candidato, ma in tal caso, in alto, mi conviene indicare la preferenza per una lista. Se no, i voti rimanenti andrebbero perduti. Questa è la mia lista. Perfetto! Ci sono proprio tutti i miei candidati preferiti. Non ci resta altro che prendere la scheda, inserirla nella busta più piccola, chiudere la busta, firmare il certificato di legittimazione, prendere il certificato di legittimazione assieme alla busta più piccola e metterla nella busta più grande. Fatto! Votare ci permette di dire la nostra. È abbastanza semplice e può essere anche divertente. Ora però non bisogna scordarsi di inviare la busta oppure di imbucarla in una delle apposite e delle lettere messe a disposizione dai nostri comuni. Per non correre rischi, vi consiglio di inviare la busta entro il mercoledì sera prima delle elezioni se optate per la posta A. Se invece optate per la posta B, dovete inviare la vostra busta già entro il martedì sera. Ovviamente potete deporre la scheda anche direttamente nell'urna del seggio elettorale. In questo caso, informatevi sugli orari di apertura e di chiusura del seggio. Direi che è tutto. Ora non mi resta che augurarvi un buon voto.